mamma mia che fatica stasera baldi giovani ho perso la voce se continui a gridare onestamente non ti passa non migliori non migliori e poi fa un po te ovviamente l'italia 0 a 2 baldi giovani ce ne stanno di cose da dire sì che ce ne stanno e allora seguito il video ma prima di farlo iscrivetevi al canale lasciando un like e scaricate l'applicazione one football per rimanere aggiornati su tutte le varie news legate al mondo del calcio ma soprattutto alla qualificazione per i mondiali scoprite la classifica il calendario scoprite tutto con one football tutto è possibile ogni ogni risposta vi sarà data link in descrizione alla per gratuita allora allora da dove partiamo da interista da interista parto da lui parto da stefanino sensi cioè io è possibile è possibile chiedo a voi è possibile che se voglio vedere sto ragazzo gioca a pallone quella palla sferica in quel campo rettangolare no con due porte undici giocatori in campo da una parte dall'altra e per vedere protagonista questo stefano sensi io devo vedere la nazionale se vuoi vedere stefano sensi giocare devi vedere la nazionale e dopo una partita quella scorsa oggi si vede un giocatore che sta meglio cioè questo gioca col contagoccia normale che non abbia la condizione ma se gli dai minutaggio scopri un giocatore che che comunque la palla la sa trattare che comunque ti dà un ritmo di gioco importante che comunque aggressivo che comunque in palla e nel secondo tempo secondo me l'italia ha cambiato anche il palleggio grazie grazie a lui e voi o non voi sarò di parte direte voi mi assumo questo rischio ma a mio modo di vedere l'ha cambiata un po' la partita ha cambiato un po' l'inerzia della gara poi fatemi fatemi sapere la vostra non può essere che una partita del genere la risolvi la risolvi o meglio no la risolta prima ma la chiudi soltanto all'ultimo minuto con un rigore non può essere devi devi chiuderla prima non è andata così perché immobile stasera poverino è voglio di poverino perché io credo che adesso questo ragazzo possa soffrire anche un po' di complessi perché ogni volta che va in nazionale vuoi o non vuoi viene massacrato allora essendo un essere umano questo qua ovviamente vuoi o non vuoi ne subisce l'influenza a mio modo di vedere perché stasera stasera ha divorato si è divorato diciamo quattro palle gol clamorosissime se le divorate bravo poi come al solito a farsi trovare presente perché in quelle maestro in quelle maestro nel procurarsi le occasioni nel procurarsi il pane quotidiano è il numero uno poi però quando il pane te lo sei procurato devi vedere di come si dice se ti procuri il pane poi devi mangiare e lui mangia ma non mangia i gol e in questo caso non va bene in questo caso non va bene ma a onor del vero va detto che era un'italia sperimentale lo capisco ci saranno tante 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 lamentele ma con la lituania si può soffrire così ma poi non lo so perché io sono uno di questi molto molto verace molto impulsivo lo so però ragioniamo ragioniamo anche questa era la terza partita in sette giorni era un'italia sperimentale addirittura ci siamo messi a tre dietro abbiamo cambiato tantissimi giocatori lì davanti ci siamo fatti trovare con sciaragli bernardeschi a centrocampo a centrocampo chi c'era pellegrini locatelli e pesina pesina abbiamo messo tolo e dietro tanti 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 sperimenti una squadra diversa una squadra cambiata in un campo ragazzi ma che cavolo di campo era quello che abbiamo visto stasera ma che cavolo di campo è e quindi non voglio creare delle attenuanti però non era un risultato no il risultato era scontato perché bisognava vincere e stasera si doveva vincere per forza di cose però c'è anche da dire che sta squadra la lituania per quanto possiamo cazzeggiare la lituania ha perso di misura contro la svizzera che sarebbe non neghiamolo non prendiamoci in giro la nostra antagonista noi al momento siamo a 9 loro sono a 6 con una partita in meno se non vado errato quindi non vedo l'ora che si affrontino queste squadre queste nazioni appunto la nostra contro la svizzera per capire un po il livello ma ricordiamoci anche che il 25 25esimo risultato utile quindi non non pochi spicci e risultati su risultati su risultati positivi e quindi alla fine un'altra vittoria che ci portiamo a casa sicuramente forse qualcosina in più ce lo potevamo aspettare ma io credo che molto sia di peso ribadisca ancora una volta dal fatto che le occasioni poi ci sono state le occasioni ci sono state ma se puntualmente ti sbagli sbagli gol conto 4 solo di immobile conto un'altra occasione clamorosa di di locatelli che impatta la palla benissimo nella ripresa ricordo un'altra di chiesa che va via il difensore tira alle stelle ma ha avuto un'altra occasione quante altre che magari adesso mi sfugono l'italia le ha avute le ha macinate le ha costruite e se e se poi non ha tramutato il tutto in gol può solo rimproverare se stessa però però sicuramente non è non è non è non è da buttare cioè non passiamo non c'è so sicuro che poi passa questa partita come per un passo indietro non è così diciamolo pure almeno a mio modo a mio modesto parere non è un passo indietro anzi è un altro è un altro tassellino un altro tassellino sono contento che poi sul rigore immobile abbia trovato il gol perché questo gli fa bene gli fa bene si svuota un po la testa ci voleva bravo bravo mancini bravo mancini bravo si bravo mancini ragazzi bravo mancini bravo mancini perché perché direte bravo mancini dico sì sì bravo mancini perché qualsiasi allenatore si bravo mancini bravo mancini perché qualsiasi allenatore si bravo mancini perché qualsiasi allenatore e dico qualsiasi allenatore stasera immobile lo toliono lo toglieva, magari lo toglieva e entrava a Belotti e ne faceva tre e quindi bravo un cavolo direte voi e vi posso anche da ragione, però bravo Mancini col senno del poi perché su rigore segno immobile si svuota un po' la testa, trova fiducia trova gol, la fiducia del mister che ti fa giocare ti dà continuità, questo è importante questo è importante per la testa del giocatore non sto scherzando, questo è importante ti dà fiducia è positivo, quindi bravo Mancini da questo punto di vista e poi che dire mi è piaciuta anche la prestazione di Bastoni nel primo tempo, un po' meno nel secondo si sono fatti trovare pronti nella ripresa Chiesa e Spinazzola Spinazzola, ragazzi, Spinazzola va ad una velocità che è differente va ad una velocità che è differente avrei voluto vedere Lazzari visto che poi abbiamo giocato con i tre dietro volevo vederlo tutta fascia, visto che abbiamo sperimentato, ah Emerson abbiamo avuto l'occasione nel primo tempo con Emerson avrei voluto vedere Lazzari ma va bene così ma va bene così e ci portiamo a casa questo 2 a 0 e vanti, che vi voglio dire avanti tutta avanti così mi raccomando un grande abbraccio dai, va bene così va bene così va bene così dai, dai che va bene così ah mamma di gestito ciao 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 ciao